Il sindaco Giuseppe Pitta ha comunicato che a Lucera sono quasi 400 e casi positivi attualmente, 20 casi in più si sono registrati nell'ultimo rilevamento. Purtroppo continuano anche i decessi a causa del Covid. La situazione resta preoccupante a Lucera e in provincia di Foggia, dove i dati vanno in controtendenza rispetto al resto della Puglia e dell'Italia. Dopo aver ascoltato le decisioni del Governo e della Regione, dopo aver compiuto la riunione con i capi gruppo, il sindaco di Lucera ha prolungato l'ordinanza di sospensione delle lezioni in classe fino al 22 dicembre. È assicurata la didattica a distanza, mentre la didattica in presenza si svolgerà solo per gli alunni con bisogni speciali che vorranno avvalersene. Pitta ha ribadito che per il periodo di Natale delle festività, in linea con le disposizioni del DPCM di Conte, ci saranno restrizioni per evitare il rischio contagio, come la chiusura delle attività commerciali nei giorni festivi e per i servizi di ristorazione sarà consentita solo la consegna a domicilio.